One take siamo tornati, Nate, siamo qua con Nerissima Serpe e Free2 Bella raga I miei slime che tornano dopo più di un anno tra l'altro ne stiamo parlando prima siete stati qua in Svizzera penso un anno e mezzo fa chiaramente adesso sono tornati in altre condizioni fa molto più freddo infatti vedo il mio slime c'ha su un bel giaccone che giacca hai su fra? siamo coperti siamo apparecchiati e siamo coperti com'è? Ho visto che hai appena fatto un live era il primo live dopo il disco? Ieri, sì San Benedetto Spinto Pubblico come reagisci? Subito bene le tracce Serve tempo per metabolizzare Però Spingono Tra l'altro una domanda che facciamo spesso noi E ci interessa, visto che avete fatto un'estate bella carica Qualche tarantella da tour Qualcosa di divertente che è successo durante un tour So che tante volte magari queste cose non si possono dire Però dimmi qualcosa che ti è successo Qualcosa di particolare No vabbè non diciamole Non diciamo proprio zero Ma Andare in giro con Papa È bella per Papa Vittanto salutiamo È importante Ma la prima che mi viene in mente forse è È un ingraffeso quello Con la Roma Cosa è successo a Roma? In pratica Cos'è che succede? Sì, sì, ho capito Finisce il live, andiamo in hotel E... Com'è che era andata? Ok, Papa è un po' Diciamo Ubriaco Marcio E vuole un kebab Quindi lo ordina su Glove Tutto Il tipo arriva Io ero bello Anche io Bello fuso sul divano Sul letto Mi fa Però non c'ho soldi Uno contanti Tu hai qualcosa Faccio si prendi Paga Tutto tranquillo Il problema che io avevo Non so perché nel portafoglio Tipo Una banconotta tipo Falsa Sì, me l'hai capito Ma Del video di Mafia Slime Tra l'altro Ok Quindi tipo A me è spoilerato subito Eh no, vabbè Come si può dire Era tipo un Sai quando ti tieni Tipo i ricordi Sì, sì, certo Tipo come i santini Esatto Solo che si vede bro C'è anche al tatto Solo che lui era bello bello Andato Era bello bello Quindi scende Gli dà questa banconotta Il tipo non se ne accorge Perché anche lui è un bel down E quindi Succede questo Che Il giorno dopo Sentiamo Carabinieri bro Dentro la stanza Ah così pesa proprio Te lo giuro pesa proprio Io e papà con due tonni Proprio sdraiati E ci portano proprio in caserma Tipo ci hanno tenuto cinque ore Ah ma proprio così Cioè Ma da dove arrivano questi soldi Bello che c'è scritto proprio facsimile Quindi Ma poi cosa c'era su Su quelle banconotte Era di cartone Sì, era fatta bene Però dico la stampa Era quella proprio giusta Sì, no La stampa era giusta Cioè non è che c'era Sulla faccia di Frito Per dire Però c'era scritto proprio facsimile Quindi io volendo Potevo Cioè posso andare giù con quei soldi Sì, sì La cosa che fa ridere Che eravamo lì Ma voi siete qua in tura E hanno iniziato a mettere Le nostre tracce Tipo apparecchiato Cioè noi in caserma Immaginati io e papà così Tutti in in cover Con tipo Sei sbirri Che si ascoltano Maffia slime E si vedono il video Era una tragedia Ma lo guardavano come provo Lo guardavano Sì come provo L'ancapire Apparecchiato Capito Arrivassero quelle banconote Capito Buona situazione incredibile Ottanta la barella 90 tu sorella Incredibile Comunque non siete usciti da questo Siamo usciti in cover Sì Vabbè, raccogli, raccogli Una cosa bella Che poi sono entrati Prima nella stanza Tipo Nella mia stanza Quella di Nel nostro amico Cercando loro Solo che noi In reception Abbiamo scambiato le camere Ah è vero Anche sta cosa Capito E quindi sono arrivati da noi Dicendomi Cioè pensando che Dentro ci fossero loro Capito Quindi Alla fine poi Si sono portati pure Un nostro amico Non c'entrava niente Non c'entrava È vero E la frase storica è stata Marescia per Dukan Marescia per Dukan Vabbè dai Che bella Raga Identità Uscito Uscito da poco Un disco Un disco bello pieno Bello impegnativo 15 tracce Quello che voglio chiederti Magari dopo parliamo anche un po' Dei feat Chiaramente c'è anche Papa Un po' Quando è che nasce l'idea Di fare questo album O come nasce l'idea Di fare album Vuoi parlare tu o No vabbè Di tu come è nato Vabbè di la tua Dai bro Cioè sono qui È nato Abbastanza spontanea Come roba Cioè Il senso Voler fare un disco Capito Poi è stata Fatta un po' di musica Un po' di roba E poi Ma all'inizio Quando facevate musica Sapete già Che sarebbe stata per il disco O siete Andati solo Dopo Ok Di racchiuderli in un disco Però prima era Fare tracce Anche perché venivano da un periodo Un po' Un po' Così Un po' Instabile Quindi poi Più andavamo avanti Più c'era la stabilità Poi è arrivato poi A Un momento giusto Secondo noi Abbiamo raggiunto Quello scopo Di fare l'album Poi tutto il processo Dopo creativo E tutto dopo l'album Sì Il conto è che abbiamo Tipo 150 provini Nel dropbox Quindi C'era veramente tanta roba Poi è arrivato il momento Eravamo Abbastanza pronti Con una struttura C'è lo scheletro Dell'album E allora da lì Identità Chi è che l'ha trovato Il titolo? La mia ragazza Ok saluto Ok A Forteventura Eravamo in spiaggia Io stavo leggendo Un libro Che si chiama L'identità Ok Ed è venuto fuori Quando ho visto Che c'era denti dentro E io volevo appunto questo No? Sì L'evoluzione di denti Da lato Ho detto Questa è la parola Chiave Perfetto Tra l'altro Squal assassino La traccia che apre il disco L'intro È una traccia che è scritto subito È una traccia che è scritta alla fine Cioè come Come è trattata questa? Secondo me racchiude bene un po' L'identità del disco No? Sì L'ho scritta a giugno Possibile Quindi sì Comunque Non è così fresca Sì In realtà le tracce che avevamo Prima del far l'amico Diceva lui Avevamo già lo scheletro Sì Avevamo un range castagno Che poi è l'altro Sì Avevamo ricordo che è l'interludio In mezzo Ah è vero Avevamo appunto l'intro No? Sì Sì l'intro Ok quindi c'era già la struttura C'era un intro Outro Ok E poi c'è solo riempimento Sì esatto Più o meno sì Cioè Parliamo Rappresenta sì È quella parte cruda Sì 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 Che parla proprio un po' Del nostro contesto Poi c'è proprio dello squalo Sì diciamo un po' tutto Io ho riconosciuto un po' In questa traccia Un po' tutto l'universo No? Di Nerissimo Serpe Poi che ho detto Probabilmente l'ha messa lì apposta Per un motivo Poi parliamo un altro dei feed Papa vivo Papa vi chiaramente Anche l'ultima volta Salutiamo Papa Che è stato qua Ciommo Ovetto frozen Non te lo chiedo neanche Penso che sia nata abbastanza Penso che tu e Papa Avrete anche Sì Mille provini Mille cose Come mai questa? Eh non Era forte Eh sì Proprio da ritornello Che ho scritto Tra l'altro eravamo su insieme proprio Sì quel giorno si eravamo tutti insieme C'era abbastanza spontanea Ok Quindi proprio la forza Sì 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 ma L'ho capito subito Perché con lui Da sempre capito Abbiamo fatto pure l'album insieme Sì sì E ogni volta che facciamo una roba Il nostro progetto deve essere comunque Una bella chicca Certo certo Quindi abbiamo riconosciuto che Comunque c'era potenziale Quindi Infatti penso che sia inutile Parlare troppo della vostra chimica Penso che Cioè Chi ci segue per la prima volta Andate a vedere la prima puntata Qui c'era anche Papa Che culto Slap Arriviamo alla terza traccia Mare d'inverno Con Ariete Villa Banks Come nasce questa traccia E come mai Ariete Villa Banks L'ho trovata interessante Questa coppiata Ritorno del villone Che da un po' Che non ci Non ci beccavamo in studio Era un pezzo Che avevo scritto io Proprio due anni fa Quindi è vecchio Ah quindi sei andato a ripescarlo Sì 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 Lui l'ha sentito Gli è piaciuto E' impazzito E quindi ha fatto Quello strofone Esagerato Mancava ritornello Poi avevano detto Dai ribecchiamoci Poi per chiuderla Per una cosa o l'altra Non ci siamo beccati E ho pensato ad Ariete Che è lontano dal nostro genere Però Ma tu la conoscevi già Ariete O sei andato proprio a beccarla No no sì sì La conoscevo già Poi lei è il mio grande fan Ok E per me spacca Il suo universo Il suo mondo Il suo mondo La sua nicchia E quindi a mio parere Abbiamo trovato proprio Nicchia che poi è abbastanza larga Esatto Abbiamo trovato proprio una Un'archimia Una sì Una sinergia nel pezzo Che per me è proprio Un mare d'inverno Bella hit Bella hit Tony Boy Poi abbiamo Vabbè con Tony Per me è un po' Tutta la nuova scena Penso che vi beccate spesso Anche con lui Penso che avrai più provini Tony lo saluto Bella per Tony Beh Che cazzo di got Minchia ce l'hai Sì ce l'hai Eh minchia Proprio a pennello A pennello Sì 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 Infatti lo aspettiamo Grande Tony Appena c'è l'occasione Figurati In chi è vero Pino di copre No sì Anche con lui Abbiamo più di una traccia Cuore dormitorio E questa traccia qua Hai scelto te di Sì sì l'avevo scritta tutta io C'evo anche la sconda strofa Ma non mi convinceva del tutto Anche lui l'ho sentita Gli è piaciuta E a mio parere anche lì Si è creata proprio una Quello che volevo C'è un pezzo Che toccasse il cuore Capisci? Lui ce l'ha molto poi Questa cosa del conscious Sì emotional Che tra l'altro Ne parliamo anche dopo Però secondo me nel disco Anche te hai toccato Proprio queste cose Molto conscious Anche le produzioni Ne parleremo anche di questo In seguito Le ho trovate molto Introspettive Quindi non so se c'è stato Un lavoro diverso Quando siete andati a fare i beat Se hai fatto tutti i beat Apposto Con questa mentalità Se sono semplicemente usciti All'altro mi sa che sono Cioè sono proprio usciti così Cioè L'album è abbastanza equilibrato Sì Appunto perché si chiama Identità C'è inizia a farlo apposta Tutte le sfaccettature Sì esatto Non aprirsi secondo me Una cosa interessante Io quando l'ho Quando ho letto la tracklist Ho poi visto Identità Schitta Achille Lauro Questa è proprio una cosa Che io non mi aspettavo Cioè mi ha fatto mega piacere Però non mi aspettavo Grande Com'è nata questa Ma Lauro mi ha scritto E io non ti dico che Ci sono rimasto E ho detto wow Ma questo tempo fa O una cosa Cos'è stata forse Ok Ti giuro eravamo in studio In quel momento Appena mi ha scritto Ho detto Ma tanto Nei DM così Sì sì tranquillo Per farmi credo i complimenti E appena Mi è venuto proprio in mente La skit Di ficcarci Sì ti dico la verità Proprio della skit Poi Noi siamo proprio fan Suoi Ok ok Ah sì Cioè vecchio Me lo sono mangiato Sì sì certo Cioè lui è stato uno Dei miei mentori E come mai skit E come mai ti è scattata La cosa dello skit Perché lui è sempre fatto E è sempre stato il capo Cioè questa voce teatrale Che ti entra dentro Proprio da cinema A cinematografica E niente Abbiamo scritto noi Poi lui è piaciuto E l'ha rivisitato Cioè l'ha rifatto tutto lui L'ha mezzo riscritto E l'ha interpretato In maniera incredibile Minchia Spacca spacca Capo Poi abbiamo Yugi Vabbè Yugi Stessa cosa di Tony Fratelli Fratellone Questo è un bel Un bel bitone anche Sì 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 Questo bello peso Com'è che è nato È nato Ho sentito Anche questo Tu è sempre Questo l'avevo fatta già io Poi ci siamo beccati E era spaccata Ti giuro È vero C'è anche questa cosa da dire Che siamo andati Al Mois Ossia a Milano Cosa succede Che vado a prendere le sigarette Appena arrivato Perché non le avevo Tempo di tornare Alla strofa Già riccata Cinque minuti Sì 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 Cioè tu sei uscito Hai messo il pezzo E boom Io sono uscito Sto rientrato E c'è lui Oh dove è Neri Dove è Neri Ma quel tempo Nella pennellessica C'è la della strofa Sì sì Lui è una bella Una bella penna E poi è bello produttivo Animale Bello forte Io penso che sia un po' La caratteristica Di tutta questa nuova scena Mi sembrano tutti molto produttivi Sì sì Da Tony a Vabbè voi A Yugi eccetera Poi abbiamo Bunker 44 Loro anche Anche quando gli ho letto In la tracklist È una cosa che non Non mi sono aspettato Sì non ho aspettato È vero Forse è il fit Un po' più alternativo Sì Per Per divinzare Una sfaccettatura nostra Però non è un aspettato Nel senso negativo Nel senso Ah ok No positivo Certo Abbiamo fatto il live Questo 2022 L'anno scorso Sì quando eravamo in giro in estate Vicino a A Empoli Sì Loro lì hanno il bunker Sì Ci siamo pluggati Ci siamo beccati Loro è una bella vibe Particolare Sì 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 Il loro mondo Questo bunker è tutto Creativo Sì 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 Proprio creazione pura E non solo musicale È uscito questo pezzo Infatti è stravecchio Poi l'abbiamo rivisitato Ultimamente che siamo andati a Firenze In villa Ah quindi si è andati là a finirlo Sì 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 E loro sono di là a 20 minuti Quindi ci hanno proprio Raggiunto Quindi la maggior parte Tu il disco l'hai chiuso Praticamente in un posto solo O sei andato un po' a destra e a sinistra No 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 Cioè in realtà in un posto solo che è Dove siamo noi Il nostro studio Ok ok E l'ultimo invece Mitico Ernia Salutiamo Bella per Ernia Ciao fratellone Questo invece Ma lui Anche ci siamo sentiti È venuto da noi Un grande Da subito abbiamo imparato tre ore Tutto di più E appunto abbiamo scoperto di avere molte cose in comune Tra cui il viaggio In particolare appunto un po' più wild Quella parte più wild Quindi animale Infatti si sente nella traccia È una cosa che volevo chiedere Perché lui avendo la passione comunque È risaputo Perché anche quando aveva parlato Di fare i documentari degli animali Eccetera eccetera Quando l'ho sentita faccia mi chiede Sicuramente avranno parlato di questo argomento Sì perché era appena tornato dall'Africa Vero? Sì perché non era sì Quindi sì Penso che Ernia In qualsiasi momento in cui lo beccherà Nei prossimi anni Sarà sempre tornato dall'Africa Perché lui vuole Qualche pavero Vuole viaggiare Sempre in giro Bella per lui È tipo Beccarsi con uno come Ernia Che comunque è un'altra bella penna No? Come la vivi te? Cioè uno che ti ispira O la vivi un po' di Quella sana competizione? Sì Cioè comunque quando ti mettono a stare a fa Ernia Sì 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 Ma è uscito proprio così In un pomeriggio Sì anche quello Molto freestyle Però sì Più che artisticamente Poi anche proprio personalmente Abbiamo imparato molto Mi ha dato molti consigli È stato proprio un fratello maggiore Grande Un grande veramente Bella per Ernia Salutiamo Io leggevo un po' di commenti E anche quando avevo annunciato la data Tante persone parlavano della tua penna No? E te lo dici anche in un pezzo Se non sbaglio Dici Nerissima non c'è un doppione E tu hai una scrittura molto particolare La mia domanda è Quando tu scrivi Com'è il processo? Com'è che ti vengono queste immagini Questo modo di scrivere? C'è una cosa che ti è venuta sempre naturale O una cosa che hai lavorato? No No naturale Dico la verità Proprio Buttare fuori Cioè magari anche le cadenze no? Cioè è proprio diverso Sì Però credo sì Quello sia Non so anche un po' il modo di parlare Di essere Cioè a mio parere non l'ho studiata Non mi sono messo il tavolino E tu quando scrivi Scrivi al telefono? Scrivi Anche a carta Non so Sì Proprio il telefono Ok Di notte Di notte? Sì sì E tu devi sempre avere sotto un beat per scrivere O sei uno che scrive magari immagini eccetera E poi le metti sui beat? Di solito beat Però è nato qualcosa anche se Però è nato qualcosa sì Forse fondo di verità Sì sì L'avevo scritto senza beat E poi l'abbiamo riadattato E tu sei uno molto critico Con la tua scrittura Cioè quando tu scrivi E recchi Sei sicuro subito Che è la cosa giusta Se è anche uno che va indietro E si rileggi i testi E si riguarda i testi No no molto di getto Ti dico la verità Forse più nel fase di registrazione Quindi come proprio esce a livello vocale Sì Sono un po' imparanoiato ogni tanto La boccia è particolare L'orecchi sempre te? Sì sì Cioè in quest'anno ho recato quasi tutto io a parte Sì forse due tracce Sì quando è andato a Firenze È andato a Firenze È andato a Firenze È andato con altri ragazzi Grande Ricchi lo saluto Grande Ricchi un saluto E durante il processo tu gli dai una mano nerissima Cioè metti del tuo anche su quello che riguarda Ci diamo una mano tutte vicende Che cazzo dici? No a scrivere mai No no però non la scrivere Però magari non so Nelle cadenze eccetera Neanche più di tanto sincero È capitato magari come capita che siamo in studio Ma perché siamo sempre in studio insieme C'è una roba molto spontanea Sì Può capitare Noi ci siamo visti appunto più di un anno fa Ed è riuscito quel progetto con Papa Adesso è riuscito con un portretto sul lista Come ho detto prima Un bel progetto bello solido Cos'è che è cambiato da quel nerissima serpe adesso? Più consapevole Più consapevole di cosa? Delle tue potenzialità o del percorso? No no di me stesso proprio Personalmente E poi credo di conseguenza anche a livello artistico Sì Quindi è un disco che ha fatto da terapia anche a te stesso? Sì sì Ma quello sempre proprio la scrittura Fare musica No non lo farei Certo E il tuo rapporto con la fanbase invece? Cioè io li vedo belli carichi Sì sono solidi Tu hai proprio quella con la fanbase Questa è una delle cose di cui vado più orgoglioso no? Anche in tempi come questi dove è facile andare su È facile avere il successo veloce Sì E molte volte è finto Invece noi stiamo coltivando qualcosa di A mio avviso ma Credo che Sai gli occhi di tutti Molto Solido Sì L'obiettivo è quello di allargarlo E di spingere tutti quanti C'è qualcosa di questo disco che ti è stato detto no? Altre uscite che non ti aspettavi? Magari qualche commento di qualche tuo fan Qualcosa che ti ha colpito? Ma sai che per ora Non è proprio un bene Però tutto positivo Cioè ci sta anche poi con la parte Poi devo ancora leggermi bene tutti Tu sei uno che legge tutti i feedback? O sei uno che Va periodi Cioè magari faccio due settimane che Cioè mi scrive il Papa Non me ne accorgo capito? Però poi No dai cerco sì Poi anche di rispondere Di avere un contatto È uscito l'album Nei risbatti? Cioè sei uno che la vive con ansia? No 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 giuro no Cioè tu quando chiudi l'album Sei sicuro del tuo lavoro? Ma sì 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 Che si collega A quella cosa della consapevolezza Di cui ti ho parlato poco fa Sì Poi di solito Cioè non ti dico che non è che sono Quello che se ne fotte di tutto Capito? Con la testa vuota No no Cioè mi faccio tutti i miei ragionamenti Ce li facciamo Però per questo disco ero Cioè l'obiettivo è pensare Già al prossimo Spingere Cioè Quali sono i pezzi A cui sei perfezionato di questo disco? Se ce ne sono Fondo di Verità Che è quella dopo lo schifo di Lauro Molto intensa Range Castagno Che è l'altro Io ti sto per dire Cioè mia personale Range Castagno Ti piace quello? Sì è di brutto Grande Sì sì E poi Sì no comunque Quello che stai dicendo Anche prima Frito Nel senso che Siccome è identificativo No? Appunto Schemi di identità Credo che dovevamo essere Più nei stessi possibili E c'è di mezzo Proprio al fatto Della versatilità No? Sì E non è una cosa Che ti dico di verità Cerchiamo chissà quanto Che dici no Dobbiamo fare il pezzo così Il pezzo cosà Cioè credo che faccia Porto porti Più che C'è di noi Sì Di me Del bisogno che ho Di dire le cose A volte in maniera Un po' più spietata Più cruda A volte più riflessiva A volte più Non lo so Io quando Io quando ho visto La copertina Ho interpretato questa cosa Perché Cioè poi dimmi se sbaglio Comunque la copertina C'ha più layer C'ha magari La pelle di serpente C'ha una parte più scura È evoluta la copertina così Cioè Sì sì Ma noi lavoriamo con i nostri grafici Cioè come è nata questa copertina? Ma Noi lavoriamo appunto Con questi grafici Che sono proprio Nostri amici Siamo in famiglia Cerco di fare tutto Sempre in famiglia Dai mix Capito Alle grafiche A una serie di cose Questa grafica è nata All'inizio doveva essere La mia faccia Tipo mischiata All'impronta digitale Capito? Ok sì sì Identità Sì 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 E poi si è sviluppata E è venuto fuori questo Tramite anche magari Due o tre reference No troppo figo Grande saluto Daniele Bella per i grafici Che tra l'altro Se non sbaglio C'è il vinile Che è C'è una ripacca ancora? Sì sì Andato sold out Sono molto contento Minchia E fuori adesso? Cioè se qualcuno lo vuole beccare Sì spingiamolo Ma dove va? Sul tuo link? Lo si trova? Sì Va bene bene Andremo anche noi Visto che non avete portato uno Andremo No Che ne abbiamo neanche chiesto Cazzo te lo giuro Mi ha detto mia madre Mi rompe il cazzo da Arriva sotto l'albero Arriva Da giorni Sì sì È per Natale Ma questa è una cosa Che spessissima Addirittura gli artisti Comunque il team degli artisti Non ce l'ha perché Normalmente spendendo l'Amazon eccetera Sempre sbatti Vabbè tu lo sai che quando ce n'hai uno in più Tra l'altro dopo proviamo a comprarlo Tra l'altro Spingiamo anche noi Se lo compri Te lo regalo Se lo compri Se ne compri uno E ne hai uno in omaggio Eh facciamo così dai Se hai afferito Quali sono le tue tracce preferite Ce ne sono Facciamo così Produzioni a cui sei più legato Di questo disco Forse La Polare La Polare La Polare Sì Interludio Perché comunque c'è Quella roba Compromessa tra Beat e lui Epica Quella e Forse ti dico Forse fondo di verità Pure io ti dico Ok Sì sì Io ho fatto la domanda Nerissima Però immagino che anche tu Come produttore Lavorare a un progetto così Ti possa far maturare Ti possa far cambiare Sicuramente Cosa è cambiato in te? O cosa senti di aver cambiato Se c'è qualcosa? Ma come dice lui Più Più consapevolezza Più Maturità artistica Anche personale sicuramente E Non so Forse saper gestire meglio le situazioni Cioè Non farsi prendere magari dal panico Da certe cose Ci hai insegnato questo disco E poi Tu dici tipo Momenti No a momenti su Qualsiasi cosa Cioè che possa essere magari avere Un'altra discadenza Saperla gestire Avere certe situazioni Lavorare sotto pressione Esatto sì Lavorare sotto pressione E poi la maturità artistica Penso che quella Poi ogni progetto Ogni cosa Salga sempre di più Speriamo Sì sì Quello forse Figa sta cosa Immagino che la vostra Comunque La vostra sinergia Sia sempre più forte No? Sì Sicuramente E stando così tanto insieme Stando così tanto in studio Non ci sono dei momenti In cui magari vi Scagniamo? Sì Ci sono Ci sono Sì però sono tanto Costruttivi Opposti E quindi Ci completiamo Siamo complementari Siamo belli coesi Tipo in cos'è che ti complementa Fra di tu? Ma no ma che lui è tutto Calmo Ok Molto più freddo Io sono molto più Impulsivo? Sì testa calda Quindi no Senza di lui Non Non sei riuscito a fare niente Ma dall'inizio fino ad adesso E per il futuro Viceversa comunque Non abbandonarmi Ci completiamo Penso che lui sia il king Del perseverare nelle robe Ok Ovviamente senza di lui Non sarà bene anche Sì io spingo C'hai capito? Sì sì Spingere Il cazzo di treno Sì sì E lui ogni tanto deve dire Fì tu devi calmare Sì 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 Deve riuscire a Orchestrare Tipo disturbi dell'attenzione Capito? Sì Ci completiamo dai Ok ok Io direi che ci siamo fatti Una chiacchierata sul disco Va bene L'abbiamo spulciato un po' Facciamo una pausetta Va bene E poi dopo spingiamo Va bene Va bene Perché ce lo chiedono tutti Di rappare Va bene